buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione di mappe solidari in questa rubrica ogni settimana vi presenteremo le migliori opere del contest open brief organizzato dall'onu insieme a zuppa talent house ha riunito più di 17 mila creativi nella lotta contro il coronavirus ma non solo insieme ad arrete alla comunicazione responsabile vi proporremo alcune delle iniziative più incisive e intelligenti che aziende italiane estere stanno attuando in questo momento storico ma vediamo ora le proposte di questa settimana il gruppo san pellegrino con il marchio levissima ufficializzato la sua decisione sospende i propri investimenti pubblicitari in tv dirottando gli importi su associazione e sostegno dell'emergenza covid 19 i fondi saranno devoluti all'agenzia di tutela della salute della montagna e l'azienda socio sanitaria territoriale valtellina e altolario filo alfa produttore italiana di filamenti per stampa 3d propone bobina sospesa che nasce sulla traccia del o caffè sospiso napoletano attraverso il sito c'è la possibilità di donare una bobina che verrà consegnata a chi saprà utilizzarla meglio pagandola da un prezzo scontato centinaia di bobine sono state spedute in tutta italia per la produzione di dispositivi utili e la protezione del personale medico sanitario isinnova incubatore di start up attivo nel campo sanitario ha riadattato l'uso di una maschera da snorkeling attraverso la stampa 3d decathlon il produttore distributore della maschera easy bread si è reso subito disponibile con una donazione di maschera è stato poi quindi disegnato nuovo componente per il raccordo al respiratore la valvola charlotte stampata interamente in 3d isinnova ha reso libero l'uso del brevetto con l'ospicio che vengono utilizzato dal maggior numero possibile di ospedali e concludiamo questa edizione con una nuova carrellata di video immagini del contest open brief dell'ONU a tra poco che dire è stata una bellissima selezione di creatività noi ci vediamo la prossima settimana per nuove notizie e nuove creatività dell'open brief a presto grazie a tutti